ma bentornati a tutti dal grande del metal cari nabaci quest'oggi ragazzi faremo un video bellissimo perché perché ho deciso dopo parecchio tempo che volevo farlo di parlare di una cosa di pokemon che non ve ne frega un cazzo ma perché siete nabaci ovviamente però ragazzi da come potete vedere l'estetica ha il suo fascino quindi ragazzi un grande amatore di pokemon come me non può di certo parlare dell'estetismo che c'è dietro i pokemon che c'è dietro il loro disegno il loro concept design e tutto questo quindi in questo video che si chiamerà poca estetica i top migliori level design e concept design dei pokemon dalla prima alla settima generazione quella dei nabaci compresa quindi in questo video analizzerò tutti quelli tutti i pokemon che reputo migliori i miei preferiti in assoluto ma solamente in fatto di estetica e quindi sarà un video molto dettagliato che analizzerà nel dettaglio tutti questi pokemon ma scordatevi le analisi competitive perché cazzo non è il mio campo e neanche ci vuole perdere tempo va bene quindi io direi di partire subito perché ragazzi è un argomento molto complesso perché e ovviamente è anche qui da come possiamo vedere sul sito di pokemon database ho trovato la lista di tutti i pokemon di tutte le generazioni come le volevo io ovvero raffigurati tutti con gli artwork questi sono tra l'altro gli sprite 3d messi mi sembra da omega rubino e alpha zaffiron poi e in fondo ci sono anche quelli di sole e luna quindi sono quelli in 3d però c'è da dire che quelli in 3d sono fatti leggermente peggio di quelli in 2d della quinta generazione quindi ragazzi analizzeremo tutte le generazioni e analizzerò tutti i pokemon che reputo migliori analizzandoli nel dettaglio ovviamente non potrete di certo dirmi ma te sei un coglione perché non hai messo questo perché perché iglipuff è il pokemon migliore del mondo e vaffanculo vaffanculo te se non l'ho messo vuol dire che devi bruciare all'inferno quindi ovviamente solo i miei gusti sono importanti i vostri no quindi ragazzi io direi di partire con la mitica prima generazione e che cazzo una delle generazioni migliori per quanto riguarda il concept design perché ragazzi ci sono talmente tanti pokemon fatti bene che potrei stare qui a parlare solo di quella allora intanto c'è da dinosa ken sugimori ovvero il disegnatore degli artwork e quindi colui che ha idealizzato e creato i pokemon nelle prime tre generazioni se non mi sbaglio poi sono stati affiancati da altri operatori ha creato dei disegni che secondo te del metal sono tra i disegni artistici più belli mai creati nella storia dei videogiochi o dei fumetti o di quello che vi fare perché ragazzi se li guardate hanno dell'arte dentro quindi partiamo con ovviamente non tutti i pokemon mi piaceranno e alcuni li odia a morte quindi andiamo avanti allora partiamo con la linea evolutiva di bulbasaur vi sa venusaur ragazzi allora che possiamo dire venusaur non mi piace perché è un tonto del cazzo e poi se devo dire uno che apprezzo maggiormente tra questi tre è bulbasaur perché bulbasaur si vede che è stato fatto con amore come tutti gli arti del resto però ragazzi da come vedete ha fatto la storia non c'è nulla da dire quindi diciamo che il migliore dei tre forse bulbasaur vi sa venusaur non mi piace poi specialmente la mega evoluzione che le hanno messo una cazzata in più ma vaffanculo va allora proseguiamo con la linea evolutiva di charizard che non c'è nulla da dire se non ti garba charizard non tu sei degno di già a pokemon quello ormai lo sappiamo tutti e tra l'altro è uno dei pokemon più usannati per questo motivo perché da come vedete è la perfezione però da come si può vedere non c'è neanche il tipo dragon nelle fine generazioni al posto del tipo volante se no diventa broken come come il culo ragazzi anche squirtle guardato le blast toys si può dire che sono stati fatti veramente bene e si può notare ragazzi che c'è un tema ricorrente nella prima generazione ovvero che sono presenti molte curve e i pokemon sono veramente semplici difatti è per questo che vince la prima generazione perché perché i pokemon sono semplici porca puttana mica come quelli ultimi che sono pieni di spigolosità di dettagli di spine di cose a volte le osse semplici sono quelle migliori lo sappiamo tutti e allora blast toys vince tutto quindi possiamo dire che per ora io io promuovo bulbasaur rivisaur ciao milon ciao la linea evolutiva di blast toys completa poi vabbè c'è capiti meta catterfield metafor e butterfly che mi fanno care poi vabbè beetle mi garba un pochino anche la linea evolutiva di pj è abbastanza bella è un volatile semplice però sa il fatto suo e che cazzo e poi vabbè ratita te rati che ratita ormai è un porno divo quindi firove non mi piace spirove mi piace si vabbè e cansarbo che sono dei tocchi di classe ecco pikachu mi fa care perchè che cazzo dio bono tromba più lui che rocco si freddi mi garba di più il ratio invece e non mi piace tanto sandrush perchè boh ha poco senso poi per quanto riguarda la linea evolutiva di nidoran e nidoran femmina e nidoran maschio mi garba solo il maschio ovviamente la femmina no vabbè cleffery cleffable dio del metal sono voi e sta dietro a questi pokemon tutti pucciosi ma per l'amor del cielo invece vulpiz e niter sono fatti veramente bene con questo design con le nove code e che cazzo altro che naruto e nabachi ninja tredicenni e poi va bene io posso andavanti perchè i pokemon sono veramente tanti ecco tra zubat e golbat diciamo che golbat era veramente creepy nelle prime generazioni perchè c'era uno sprite con la bocca enorme faceva veramente paura però sono tutti occhi di classe anche se rappresentano una cosa semplice però è stata fatta bene di certo si andava a disegnare l'occhio e la bocca c'è un tavolino per fare un pokemon come viene fatto ora quindi io continuo con odysh gloom e va ecco gloom non ha senso ma vaffanculo gloom e tra l'altro paras e paraset sono due chicche perchè paras c'ha questi due funghi dietro che li crescano e sono dei funghi parassiti paraset invece è diventato succube di questi funghi difatti come possiamo vedere esce all'occhi spippati da zombie difatti poche adesso dice che il fungo che lo parasitizza l'ha reso un individuo totalmente zombie di se stesso figuratevi quanto cazzo è spippato e tra l'altro è tanta roba fosse un po' più forte ce l'avrei sicuramente in ogni team poi vabbè venonat e venomot qui c'è anche la leggenda metropolitana che venonat si doveva trasformare in battle e felipe che ha sovina di più a quello e quello e quell'altro perchè ragazzi nelle prime giochi hanno fatto un casino allucinante tra l'altro c'è anche un album di figurine della panini mi sembra che c'è farfec che è messo nella linea notiva di dodo e dottrio ma com'è possibile ma voi non ci capite un cazzo ma allora noi che siamo vicini all'inizio si credeva di questa cosa ma per l'amor di dio posso scoprire il gioco che non succede e poi che cazzo fai e vabbè questa è una piccola parentesi ora vengole e dottrio mi fanno care analizziamo anche la forma cocapelli che quella è una puttanata allucinante io non so che cazzo c'è nel cervello allora allora dato che ci sono parecchie leggende anche lì artwork che vogliono vedere che cazzo c'è sotto dottrio sotto la terra ma perché dovevate programmare dovevate creare una forma lola di dottrio che usciva dal terreno no invece ci mettono dei capelli a cazzo i cani allora ma e persiano va bene posso passare ecco psaidak è un fenomeno e goldak lo rovino un po' poi ma anche prime mi fanno care groli lakazam rappresenta in maniera molto subliminale il demonio e che cazzo poi allora mashup mashup e mashup mi garbano poco però vabbè sono quei pokemon che li ami a forza di vederli alla fine poi invece c'è besprot wifimele e vitibere a me garba particolarmente vitibere tranne quando mi uccise starmi il grande rubicante una glitch come un assassino accidente a lui allora sono particolarmente fan di tentacruel io e tentacruel perché perché una volta mi sognai che mi apparì una forma leggendare di tentacruel che si chiamava tentacruel era tipo una mega evoluzione no ma questo accadde dieci anni fa praticamente era un tentacruel che prendeva lo lo prendeva tutto lo spazio di dove c'è la schermata dell'apparizione del pokemon e c'è delle braccia enormi era una figata ragazzi quindi tentacruel è rimasto nel cuore ecco geodood graveler golem tra i tre graveler è quello più imbecille golem va bene quell'altro geodood va bene geodood è una figata poi va bene poi in italia rapida ci sono un classico e va bene anche slow po' che slow bro all'inizio c'è slow bro che veniva mangiato da questo testa di cazzo dietro mamma ci sta ecco ora cominciamo a vedere delle cazzate quindi money 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 è una cazzata perché praticamente sono tre money money uniti e allora cioè a questo punto possiamo vedere anche che anche le scorse generazioni ce l'hanno delle cazzate e qui siamo a 12 minuti sono sempre nella prima devo affrontare tutto il resto accidenta ma io non lo so ecco farfeci dodo e doltri da come vedessi sono in fila ma non vuol dire che si evolve uno nell'altro non vuol dire che farfeci evolve in dodo cioè ma anche a vederli ma come cazzo fa cioè vuol dire è come cazzo mo eeeh aspettarsi che da un bozzo di una farfalla esca un treno cioè ma com'è possibile no te ti aspetti che esca una farfalla invece come fa difatti quelli della game freak hanno sbagliato per questo perché sono in fila nel poker x e nell'abbon di figurina l'ho messo tutti come voluti ma fottetevi ecco e qui c'è anche qui tra l'altro dodo dodo e dottri sono particolarmente inquietanti perché tra l'altro eeeh le tre teste di dodrio se non mi sbaglio ognuna ha delle volontà proprie ma tanto non siamo qui per ragionare dei trivia di queste curiosità del cazzo da poco adesso danno baci no qui siamo analizzare qui siamo analizzare l'estetica capito ecco quindi inutile mi venite a dire eh ma Mewtwo è bello perché c'hai poteri perché eh la minona è cariola e qui là sotto e sopra me ne frega un cazzo quindi sì le dugong vabbè si possono anche lasciare grimer e mac per l'amor di dio ecco c'è delle cloister boh non mi dia nulla e invece invece che mi dice la forma evolutiva di Gengar ragazzi è una figata po' vabbè voi che siete nabbacci non lo sapete ma per chi se per chi ha vissuto il periodo della nascita dei pokemon come me è stata accompagnata per tutta la vita dalle carte pokemon dagli sprite dagli artwork ragazzi dopo che vedi quelle osse lì e tu diventi per forza un artista perché di buono c'è delle acure in quelle osse allucinanti mi dispiace solo per voi deficienti che non ci siete neanche passati ora vi fanno le carte le pokemon con pokemon che escano in 3d dalle carte ma che troiaio è è una tra l'altro ci vuole pochissimo a fare quelli sprite lì perché i modelli poligonali basta un progetto e tu li modelli mentre prima fare i disegni era molto più complesso ecco perché ovviamente c'era tutta la tecnologia di ora venivano fatti a mano eeeh se per te se ose e allora onyx boh e ci sta anche ecco ipno non mi piace drowsy di più poteva diventare qualcos'altro crabby king abbastanza vorto eletrode no vorto mi piace perché è cattivo ma eletrode serve a un cazzo ecco sono queste rivoluzioni che non hanno senso ragazzi ecco esecute può andare a fanculo come esecutor che tra l'altro è diventato un palo della luce ma vaffanculo vai di tipo drago quindi state attenti ragazzi quando passate per le strade perché un palo della luce con delle ma io 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 sono convinto che prima o poi qualcuno morirà per colpa del esecutor ragazzi che c'è anche la coda madonna e palle tra l'altro vedi a me mi fa rabbia a morire perché non è che lasciano in pace la gente veterana come me no vengono e creano e dicano ora si fa sulle luna ora si fa le ultra mega evoluzioni in abbacce e che fanno cioè non è che creano nuovi pokemon perché magari dicano guarda lasciamo perdere quella gente che magari ci è affezionata non creando cagate e rovinandole no ti creano delle forme del cazzo madonna santa e rovinano quelli tra l'altro è uscita la news che esce ultra sole e ultra luna e che succede succede che vogliano fare ovviamente le formalola di seconda generazione che è la mia preferita ora a me se mi distruggano pokemon come kindra triflosion e quello e quell'altro io mi cazzo come una bestia va bene oh perché mi avete rotto coglioni questo vuol dire che non avete più un cazzo di idee perché prendere un paio di chiavi e farci un occhio alla bocca e passarlo come pokemon prendere quei cazzo di ossi con fiori e farci pokemon ma voi siete fumati siete fumati cazzo va bene che avete finito tutte le specie di animali possibili per creare pokemon però non vuol dire che tu puoi prendere una mela disegnarci due cazzo d'occhi e passarla come pokemon allora vai a fa culo e vai a fa altri lavori va bene oh perché qui si parla si parla di osse serie si parla perché l'occhio è la sua parte e io come faccio di del metal il più grande esperto pokemon a trovarmi motivato a giocare un gioco nuovo dove come compagno di viaggio come macchina da guerra deve avere un mozzo di chiavi ma come faccio io come faccio io a medesimarmi con un mazzo di chiavi cioè io non ho parole andiamo avanti perché ci arriveremo al mozzo di chiavi e lo brusceremo ecco cubone e marowak sono spettacolari poi il tumo lì mi garba poco e anche il tumo ciano eccolo ecco il pokemon più brutto della prima generazione ragazzi lichitung lichitung e viscido lichitung è fuori luogo non c'entra niente perché ragazzi questo è veramente scandaloso perché è brutto non si può fare una cosa del genere non si può perché la lingua fuori a quella maniera sta male proprio sta male e le fai vedere ai bimbi cioè a me sta è brutto è ridicolo non c'entra nulla guarda in confronto wheezing wheezing in confronto è un dio ma quale lichitung io continuo madonna raidon è tanta roba è anche raichorn poi c'entra è tanta roba anche quello diciamo che è uno dei pokemon più pucciosi che mi garbano perché a me i pokemon pucciosi non mi garbano però c'entra diciamo è quello che si salva di più è semplice è fatto bene è carino e via e tangela fa care ovviamente kangaskan boh eh oh si sidra e si comincia a vedere che in futuro ci potrebbe essere un po' come un figo come kindra andiamo avanti con golden e seeking che non spiegano cazzo star e starmi tanta roba e poi mister mai mi fa cagare xyter mi piace di più di shizor attenzione che tra l'altro shizor non li pagano più acclamati del web ma va a fare culo o dai bambini nabaci che li garbava no a me shizor mi fa schifo a me mi garbano più xyter va bene e mi fa schifo ovviamente anche la sua forma mega mega sto cazzo jinx è stato è stato vittima di numerosi scandali perché voi dovete sapere da come vedete ora c'ha la pelle viola ma in passato c'aveva la pelle nera e quindi si lamentava un sacco di gente perché incitava il razzismo razzismo di che? perché uno c'ha la pelle nera e allora vuol dire che sei razzista cioè ma va a cagare no va a cagare perché dici che potrà rappresentare una donna di colore si l'abbiamo visto le donne di colore bionde tettone o si senza piedi ma io boh con capelli lunghi a quella maniera biondi io non credo neanche esistano e comunque ci può anche stare la cosa però avete rotto i coglioni censura avete rotto i coglioni ecco l'Ethrabuzz è una figata magmar è tanta roba ovviamente è rovinato tantissimo con la sua evoluzione in quattro generazioni pinzir è cattivissimo e la sua mega mi garba da morire taurus è una figata ecco magicarpe gheridos non si sa come un pesciolino così si trasforma in un mega drago ma che cazzo ne sappiamo però è tanta roba ragazzi gheridos è uno dei miei focom preferiti in assoluto ecco ditto è la puttana dei pokemon e quindi lo amiamo tutti perché sappiamo il motivo la frase è bello ecco la linea evolutiva di vivaporeon jolt e neflareon sono state decennelate perché è stata la prima volta che si sono inserite i flurimi evoluzioni di un pokemon attraverso le pietre evolutive e i ragazzi sono caratterizzati benissimo rendono perfettamente l'idea di ciò che rappresentano dell'elemento che rappresentano quindi mi piacciono tantissimo tra i tre preferisco vaporeon perché ci sono particolarmente affezionato anche dal punto di vista del competitivo quindi porigon è tanta roba perché è uno spippato lì messo lì è bellissimo è tutto spippato anche omanite mi garba particolarmente omanstar no cabuto e cabutos mi piacciono aerodate mi garba particolarmente snorlax non tocco di classe chi non ama snorlax è un deficiente capito tenna bacio del cazzo che mi dici nei commenti che snorlax è un po' come di merda te non hai capito un cazzo te devi bruciare nell'inferno ora analizziamo i leggendari i prezzi leggendari allora siamo arrivati altri uccellini allora che si può dire allora possiamo vedere che il design è diventato più spigoloso di zapdos ma perché perché deve rappresentare il tuono ovviamente è fatto molto bene articune e tanta roba ecco i tre i tre sono tutti belli ragazzi non si può dire niente mentre tra datini dragonite e dragonite ovviamente dragonite non c'entra nulla con quell'altri però dragonite è uno dei miei pokemon preferiti no che uno dei migliori però non guardatelo qua ragazzi perché dragonite purtroppo è sempre stato rappresentato come un cuccione di merda invece volete vedervi lo sprite fino a generazione e tanta roba perché è super aggressivo ecco ora arriviamo a mewtwo che fu smerdato da pokemon giallo di merda guardiamolo vieni qui allora questo gioco qui è pieno di sprite di merda ma veramente brutti hanno rovinato tutti gli sprite brutti della prima di rosso e blu perché ovviamente anche verde aveva se sprite che quelli erano veramente inquietanti però rosso e blu c'era delle sprite più aggressivi allora siccome giallo e c'era pikachu e si doveva arrivare a tutti i nebaci del cazzo è stata una commercialata immonda pokemon giallo e però alcuni sprite li ha veramente rovinati cazzo alcuni li ha migliorati ma si parla di eccezioni come genga per esempio mewtwo l'ha reso una schifezza uno schifo in prima in rosso e blu era uno era uno spettacolo però mewtwo vabbè chi è che non ama mewtwo le sue due forme nuove non mi piace mi piace di più quella con la coda lunga dietro in testa quell'altro mi fa care quella mi sembra sia lotta psico quella mi fa veramente care quindi se tu l'ami e tu sei un vicido e allora arriviamo a mew ragazzi è tanta roba questa pokemon siamo arrivati in seconda generazione e non c'ho più voce ne rimangano sei ma ci si farà la seconda generazione è la mia preferita per alcuni pokemon però ovviamente sono affezionatissimo anche alle prime alla prima generazione allora introdusse 100 nuovi pokemon però ragazzi tanta roba ecco qui mi fa rabbia assurda a me mi fa una rabbia assurda mi fanno rabbia perché la linea evolutiva di cindro qui qui la tiplosion non la puoi mettere senza fiamme ma lo vedi che non trasmette niente dove dov'è il fuoco dov'è il fuoco serve per buciano a baci no senza fuoco non serve a nulla e tra l'altro io giocandoci pensavo che magari durante l'animazione di lotta e che cazzo si si cazzo esce il fuoco no non succede nulla rimane così rimane spoglio è brutto sembra un tarpone così no serve il fuoco allora ci querita e balle mi fanno care meganium mi garba leggermente rifiuti loro dei tre mi garba solo tiplosion totodile con alfrigator mi garba particolarmente totodile tanta roba è un simbolo è un simbolo totodile e e e e ferragator però mi dà l'idea di un tonto però andiamo avanti consentete furrete guardate ragazzi non mi garbano ma ma comunque sono fatti bene e più avanti quando più avanti dico che non mi garbano nelle generazioni future vuol dire che sono fatti male a besta qui invece è una cosa personale perché dico guarda salete te furrete non mi garbano però sono fatti molto bene va bene perché sono semplici invece più avanti quelli che non mi piacciono a me vuol dire che sono fatti col pisello legato porca puttana dio santo prendi un bimbo di tre anni con la nutella in bocca gli metti una matita in mano e gli incominci a fare scarabocchi gli dai un bicchiere di vino comincia a fare scarabocchi e fa meglio pokemon te lo dio te lo dico io porca puttana te lo dico io allora e siamo tutte in ottaul nottaul è uno dei miei pokemon preferiti a me mi piace tanto è una figata e si mereterebbe una evoluzione contro coglioni ma bella deve essere cattiva no che gli metti che cazzo ne so gli metti un bastone che regge con le zampe e la mega evoluzione è fatta no le mega evoluzioni non si fanno così tra l'altro io facevo un sacco di disegni quando ero bambino il problema è che io ho anticipato di venta di quanto di quindici anni fa io ho anticipato di quindici anni le venti delle mega evoluzioni perché creavo i pokemon e mi inventavo le forme finali ma c'erano c'erano delle ossa allucinanti delle idee contortissime altro che che aggiunge un corno di ustriature e fatta la mega evoluzione no non si fanno così aggiungi capelli ad anfaros mega evoluzione vai a cagare allora l'ediba è figo l'edian anche ovviamente dipende tantissimo anche da come vengono rappresentati qui possiamo vedere che in 3d vengono rappresentati meglio però in alcuni sprite perdono ovviamente non potete rifarvi sul giudizio degli artwork della gente perché io mi metto a fare un disegno super figo di jigglypuff e te lo faccio passare come il poco più cattivo del mondo è normale che poi ti garba ma te devi vedere dentro il gioco devi vedere come cosa ti trasmette quando giochi hai capito quindi andiamo avanti spinner a creare sono stati i primi ranni aggiunti nei pokemon però no poteva essere fatto molto meglio crobat è una figata ma non mi garba particolarmente il suo sorrisetto io ero dell'idea che dato che cro dato che gobbat aveva quel sorriso enorme potrei fare una cosa molto più spettacolare e cattiva però va bene lo si dai va bene lo si non si può dire niente kikow e lantuno sono detto chi classe pish va bene lasciamo stare il gruppo di nabbacci qui che sono immondi sono immondi mentre invece natu e xatu sono due figate sono veramente due figate perché guardate la semplicità di natu è talmente semplice che non può criticarlo perché è fatto benissimo allora arriviamo a Mary Fluff Amparos va bene qui Amparos tra l'altro è uno dei più potenti secondo la generazione tipo elettro è una figata usarlo però il D-D-Metal non può stare zitto se ti putti in bianco tu li metti tipo drag aggiungendo dei capelli ma ma fottiti fottiti dio santo aggiungi dei capelli sai cos'è è un'aggiunta è un DLC cazzo uno di quei DLC di merda che te compri il vestitino nel gioino quello è una cagata non può chiamarmi in mega evoluzione uno che con dei capelli ma che cazzo gli danno questi capelli io spero ci si impicchi con quei capelli cioè io non lo so questo vuol dire tirare il sasso su piedi ai fan di un tempo ma che cazzo ci sono delle forme spettacolari mega come delle forme alola spettacolari ma ce ne sono alcune che sono da da suicidio arriviamo a Bellossom che non mi interessa Marill Azumarill sono belli ma non mi piacciono a me perché ve l'ho detto come la penso io io voglio Pokémon cattivi i Pokémon devono essere aggressivi il tuo compagno deve avere le palle se non ce l'ha che cazzo giochi a fai Pokémon gioca a Terry Talvis gioca a Peppa Pig perché devi giocare a questo cioè prendiamo un gioco epico come Dark Souls amassi i draghi amassi tutto quello che ti pare ma di certo se te ti fai un arte rego boh con con chufasciups in mano e quello ammazza la gente con chufasciups quanto sei credibile quanto sei credibile niente io non riesco a medesimarmi nell'epicità capito e quindi ma per ora lasciamo perdere perché le vere critiche arriveranno più avanti o io quello che sto le scritte le sto dicendo ora sono tutte riferite a più avanti mica ora perché le prime metriegge a parte la terza generazione che ha inserito qualcosa di un po' più però le prime due sono intoccabili quindi è solo un fattore personale proprio avanti si entra veramente a inferire le emozioni del metal ma porca puttana e prenderò fuoco in diretta allora qui qui un secondo eh non capisco neanche se va o no questa cagata si si beh ce l'ho da vedere se mandava perché non si sa mai allora siamo arrivati a sud vuoto e politoide e politoide vedi è molto meglio della linea di poli bratte è una figata e poi ci ho più scrivolo me jampluff ma che cazzo d'idea è ma mi dici te uno che si vanta di usare cioè io voglio trovare uno che rigarba jampluff ragazzi ma che cazzo è è una jampluff minchiata scrivolo forse ma quelli ma ma come fai ad essere soddisfatto a giocare con una merda simile io lo so iphone boh sono anche nel sanflora lasciamo perde ma andiamo avanti jamma non mi piace sebbene sia l'inzetto e il di del metà l'amo inizetti però perché gli insetti sono esseri perfetti e voi non lo sapete e se fossero più grossi di 30-40 cm dominebbero il mondo altro che esseri umani ragazzi gli insetti hanno dei sensi che nemmeno voi immaginate andiamo a whoopere guazzaire che ci sta ragazzi guazzaire è tanta roba è un simbolo e poi arriviamo a espione umbron ragazzi sono due tocchi di genio sono veramente una figata uno che rappresenta il giorno uno che rappresenta il sole diciamo e uno che rappresenta la luna la potenza solare e la potenza lunare ragazzi racchiusa in queste cose altro che sole e luna altro che sol galeo ma sol galeo muore spoiler allora Markov è tanta roba però purtroppo è un pezzo di merda c'è una evoluzione in questa generazione schlocking mi piace particolarmente anche misdrevas eh onov col cazzo l'idea era geniale perché sei riuscito a creare un contesto antico nelle leggende delle leggende però stasera poter risparmiare va bene che te collezionista del cazzo collezioni tutti gli onov ma non un pokemon con una mossa che tra l'altro dipende dal suo IV ma che cazzo ma mi dici te come fa andavanti un trolleyo del genere che impara una mossa sola cazzo Magikarp ha questo vi tira le piene in faccia ma è bellissimo è bellissimo è veramente una figata perché ha anche senso anche se qui non si vede però lì dietro c'è la coda c'è la coda nera ragazzi sappiamo giraffa righebbo era particolarmente equitante la coda dietro che rideva che appunto ha una doppia personalità però ragazzi sono tutte cose emotive noi qui parliamo di estetica pinico e foretress pinico era un'idea geniale però guardate come si è trasformata male foretress lo so che cazzo è una bomba quelle mine che trovi nel mare anti sottomarino che cazzo mamma che roba è a me non mi è mai barbato e poi c'è anche un tipo tipo fuoco e boh dashpads è orribile è bruttissimo non ha senso di esistere avrebbe senso se venisse trasformato in un megadrago o qualcosa del genere ma così è una deficienza della seconda generazione gligar è carino meno male che l'hanno messo con l'evoluzione nella quarta generazione che mi garba particolarmente stilix è una bomba peccato che alcune volte tipo qui viene rappresentato con dentoni da cavallo che fanno care porca puttana invece no stilix è un pokemon bellissimo snubbull e grumble mi fanno care quiffish uguale quiffish non ha senso di esistere non ha senso di esistere no perché io sono dell'idea che va bene vuoi fare pokemon di merda però almeno metti l'evoluzione non lasciarli fini poverini al loro destino per 15 anni 20 anni e poi magari vuoi fare anche l'evoluzione in futuro cioè a meno a lui qualcosa di trovare proprio poi fa care come una merda dio santo non è come eracross che non ha neanche l'evoluzione però intanto era potentissimo quello non serve a nulla quiffish è più potente tentacool cazzo allora siamo arrivati a schizor va bene che c'è un'idea fantastica dietro però io preferisco scyther va bene e te non puoi obiettare shakul bo io non capisco perché una carta del genere abbia tutti quei punti non ha senso non ha senso di tutti quei punti per esempio l'avrei messi a steelix per esempio non a un troieo del genere allora ma tanto il senso nei giochi fa come non c'è mai stato perché nelle prime generazioni anche guardando i pokédex le descrizioni dei pokédex va bene che c'è delle puttanate lì dentro veramente fuori al mondo del tipo è più forte di un elefante indiano va bene come se il mondo dei pokédex fosse abitato anche dagli animali lei mi ha visti nel gioco qualcuno ne parla la che cazzo lo dice a fare non creare casino nella 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 trama del gioco non non dà credibilità all'opera capito non dà un cazzo di credibilità oppure quella che dice oh non a xyter o ad altri pokémon e taglia qua taglia di là e poi non impara taglio non impara volo e va affanculo va bene e poi metti volo a gente come beedrill si a gente come dodrio come dodrio che vola un tre teste che cazzo è un ventilatore non lo so io vola come ventilatori messo in orizzontale io non lo so ma queste sono idee generali torniamo a noi perché mi sa che qui le osse verranno molto lunghe andiamo avanti però da come vedete la semplicità vinceva ora invece si può fare la osa forzata le cose forzate non hanno mai funzionato da punte parti e le stiamo lo stiamo riscontrando anche se ragazzi vi devo ammettere che guardando siccome io non l'ho giocato però guardando i pokemon di sole e luna come sono rappresentati qui mi galbano di più più di quelli che quelli della quarta generazione ragazzi quindi attenzione perché ci saranno parecchie sorprese in questo video allora Sneasel non mi garbo un gran che non ha senso secondo me come pokemon e tadi ursa e ursaring ecco ursaring poteva essere sviluppato meglio però l'idea ci sta carina slug magmargo ovviamente rappresentano le chiocciole però ragazzi eeeh boh non so che dire mediocre mediocre va bene swine sono due cagate va bene l'idea del cinghiale però che coso mano swine che sarebbe la quarta la quarta l'evoluzione di lui in quarta generazione non mi gabbo un gran che mi sembra fatta a caso la quarta generazione si che ha cominciato a smerdare le vecchie le vecchie generazioni ci arriveremo corso non ha senso di esistere ramo ride non ha senso di esistere octillery tanta roba delibird ci sta sapete chi mi ricorda delibird il re dei dee di kirby cazzo è paresemente un cameo ragazzi non c'è nulla da fare mantai non ha senso di esistere scalmory è uno dei pokemon più belli in assoluto andauri undoom pokemon più belli in assoluto kindra è il top dei miei pokemon preferiti kindra è una figata allucinante perché veramente un pokemon c'è anche il tipo molto forte però ragazzi questo vuol dire sviluppare bene un'evoluzione cazzo vuol dire sviluppare bene un'evoluzione passiamo a fanfio e donfan fanfio è carinissimo è bellino è tutto carino è un pucciosino ma viene rovinato da l'inutile donfan che per quanto l'idea sia carina ma a me mi fa ca a me mi fa ca va bene porigon 2 mi fa care è rovinato porigon l'ho sfippato per eccellenza che causava attacchi pilettici l'hai rovinato stantler ragazzi siamo arrivati a stantler che mi sta sul cazzo poi smerag l'uguale ti rogge è orribile il tmo top l'uguale uguale già non ribericolarti i due e poi ci fai anche le evoluzioni per le evoluzioni le evoluzioni alternative ma no 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 e qui cominciamo con pokemon baby anche se ci sono stati anche prima smoshum erikid o mi ha fregato un cazzo a me di questi pokemon me il tank è molto stronzo però l'idea ci sta blissey non mi piace mi calva di più cenzi a me ragazzi ci posso fare mi calva di più cenzi a me e qui è molto interessante perché se tutti i pokemon fino ad ora sono stati rappresentati da kenso gijimori e ideati da lui raiko in tai suikun vennero rappresentati ideati e realizzati da un altro disegnatore e quindi possiamo vedere che sono già molto più dettagliati i dati pokemon sono hanno molti più dettagli hanno molti più sono più pompati e non perché sono leggendari sono più pompati possiamo vedere le prime spigolosità ragazzi spigolosità spigolosità e qui si inizia a vedere già un cambiamento però veramente sono stati fatti da dio tanta roba per chi l'ha fatti poi vabbè pupitar l'arbitra pupitar e tirannita sono delle perle lughi e ho tanta roba davvero celebi mi fa ca va bene mi fa cacare ragazzi siamo arrivati alla terza generazione che fu la generazione di rottura per i veterani e per i nabbaci ragazzi ve lo dico io perché la terza generazione per chi non lo sapesse per chi ancora è il rintronato deficiente che fu il primo fu la prima generazione assoluta a cambiare generazione videoludica di software perché di fatto si passa dal game by color in colori monochromatici al 32 bit del gba ragazzi allora c'erano delle aspettative mostruose quando uscii io c'ero e fu un botto assoluto veramente un botto allucinante e quindi tanta gente si lamentava perché alcuni sembravano fatti a caso tra l'altro la terza generazione come gioco a me garba da morire perché è un po' più cazzuto degli arti gli altri sono fatti benissimo il contesto fanciullesco immaginario è tanta roba il mondo creato intorno ad essi però la terza generazione è un po' più reale quindi sembra più aggressivo allora c'è da dire una cosa interessante i colori sono più sbiaditi di tutti i pokemon fateci caso rispetto alle scorse generazioni i colori erano molto più accesi mentre ora si tende a tonalità di colore molto più inferiori allora siamo arrivati a Trico Grovail e Sheptil mi piacciono particolarmente tanto Sheptil però con quel palo con quell'albero in culo che le hanno messo col coso l'hanno reso un po' più aggressivo ma ci può anche stare però un palo in culo a quella maniera un albero in culo a quella maniera io me lo sarei risparmiato ma comunque ci può stare dai più che mega evoluzione la potrei chiamare un potenziamerito ma quale mega evoluzione allora Torchic mi garba particolarmente con Busch e no e anche Blazica è abbastanza figo allora però se devo scegliere uno start per eccellenza tra tutti io scelgo l'innovativa di Magic Mushroom e Swampert perché Swampert ragazzi è il pokemon perfetto perché il suo tipo va bene che è deboli per 4 ma è solo deboli a quello e tra l'altro lo può far diventare un tank della madonna con maledizione e tutte le combo allucinanti ovviamente si parla del passato o mi potete venire a dire che ora c'è orologio che con attacco va a più 6 di attacco speciale fa fuori quello a me non me ne frega un cazzo io vi dico del passato va bene allora mi piace particolarmente dipende anche qui dalla rappresentazione nel cartone Swampert è rappresentato malissimo ecco non basatevi sul cartone dell'anime dell'anime del cazzo che è da nabaci l'ho rovinato tantissimo le sprite tra l'altro qui Marton è rappresentato spippatissimo va bene dai allora maetiena mi piace peccato che non sia forte come vorrei era carino aveva un pokemon del genere il team ecco Zizagon è stato criticato parecchio però a me piace a me piace mi piace più lui che la sua evoluzione la soluzione non c'entra non c'entra nulla ma lui se devo scegliere tra quei pokemon rintronati come Kate per quelli io mi sceglierei lui lo schiavo di MN e tra l'altro ti tira con le anche un sacco di roba anche utile cioè all'inizio del gioco basterà cattà 5 Zizagon ti prendi feggio sordi con quello per fare le run esperti su Smeraldo allora Warper, Sink e Beautify e Chaos non hanno senso per quanto ci sia stato lo sforzo di dividere le evoluzioni in maniera casuale in base a se usciva Silcon o Kaskun mi fanno care allora gli insetti veri nei pokemon sono stati fatti veramente bene con Volcarona ed altri solo alcuni ci salvano ah e non ho detto Heracloss ragazzi mi sono scordati di Heracloss Heracloss è uno dei miei pokemon preferiti è quello la perfezione ed è stato rovinato con la mega evoluzione come al solito allora Lotad l'ombre l'ombre ragazzi è inquietantissimo è veramente inquietante quando ti giocavi non eri abituato alle forme umanoidi nei pokemon no e ti vedevi questo osso vicido brutto inutile di punto in bianco a me prendeva paura ragazzi fa schifo chi è che chi è che ha voluto di allenare un troiaio del genere ragazzi Lotad è carino però può se va ben con il troiaio e tra l'altro se non mi sbaglio serve anche la pietra foglia per l'udicolo l'udicolo ci sta perché è ridicolo quindi tutto il contrario della linea evolutiva di Sidon Hazel e Shifty ragazzi guardate Shifty quanto cazzo è cazzuto è bellissimo ora devo riattivare la fotocamera di merda forza tu ce la fai neanche a registrarmi Dio santo eh tai dove Svellov vengono troncati lì ma fateli un'evoluzione a quel povero Svellov lì Svellov di buono allora Wingo le pelippe possono andare a cagare lasse chi li ha guardi voi guardi voi ragazzi scrivete guardi voi su google la prima immagine vi viene è un porno tra loro due quindi figuratevi te quanto la gente si è sfippata con questo pokemon qui che tra l'altro può essere anche maschio quindi potrebbe essere anche trance benissimo però ragazzi a me mi fa K ma molto meglio di Gallade Gallade è un dito un culo o mega evoluzione compresa Gallade è un'imbecillità suskite e maschio e arin sono due troiai suskite è fatta a caso maschio e arin vabbè e shalailif e spaventare nemici ma non si capisce un cazzo è fatta a caso è brutto è orribile io non lo voglio mentre invece romish e brilum brilum è tanta roba è tanta roba brilum non c'è niente da dire peccato che se volve tardi sromish è difficile da allenare adesso mi sbagliano di quei pokemon che ha l'esperienza aggiuntiva in più uscita nella terza generazione che è quella più alta di un milione e 600 mila e passa punti spi a 100 quindi è ancora più difficile però è tanta roba è tanta roba slakot vigore slaking ora slaking mi fa cara a me non si capisce se è una scimmia o un porco non si capisce nulla mentre invece vigore è una figata perché è drogato su vigore è pieno di adrenalina un dorme mai è una figata dà proprio l'idea del pazzoide a me le osse pazze mi garbano lo sapete ecco ninjado mi fa cara però ninja e se ninja sono due fenomenate se ninja è veramente bello peccato che l'hanno messo con l'abilità di merda che ci può fare con un punto vita e passiamo ai troiai we smurlote the storm a cubita ariama fanno schifo basta ariama è un tegame è un tegame della mondia a casa va bene è brutto è orribile fa schifo non esiste allora non c'entra nulla poi ci sarà qualche fan di ariama che metterà non mi piace al video al di del metal non fregarà a cazzo però andiamo avanti azzuril vabbè ci può stare ma chi se ne frega e poi c'è anche tipo fata non si passi invece a me garba tantissimo perché in delle generazioni ficcacci dei pokemon enigmatici così è tanta roba difatti qui più avanti arriveranno dei leggendari molto discutibili e la mia generazione con leggendari preferiti la terza non si passa è bello ma viene rovinato tantissimo da quella sua evoluzione che c'ha i peli del cazzo qua sotto ma quello come fai fa no se genere te non c'ha nulla nel cervello te c'hai i vermi nel cervello madonna santa scritti per quanto sia fuccissimo del cazzo però non vi rende giustizia sempre meglio che di quel gattaccio obeso che si trova in quarta generazione mamma mia quello si che è brutto sableye era carino però mi sta sul cazzo mega sableye quindi lasciamolo perdere invece ma guai è orribile ma guai è brutto è osceno è antiestetico non ha senso cos'è sta roba cioè ragazzi avete presente bloodborne il gioco della front software per ps4 xbox one ecco io non l'ho giocato però ho visto dei boss lì dentro praticamente hanno preso un mucchio d'ossa l'hanno fatto a caso e l'hanno animato ecco fatto il boss ecco quello non vuol dire fare roba con va bene ci sta l'idea del contorsionismo ma questo non ha senso no va bene che il senso non lo devi trovare nei giochi perché te appunto giochi e videogiochi in teoria per uscire dal mondo di merda in cui ti trovi e allora meno domande ti fai meglio è però ragazzi no no tra l'altro nella sua mega evoluzione viene aggiunto un'altra testa lì è ancora più brutto e tra invece iron l'iron e agron fenomeni sono dei fenomeni agron è stupendo è bellissimo ma meditita e medicam no no sono due cipolle del cazzo no vedi qui in manetrick è stato migliorato eh come concept però nelle scorse generazioni faceva più schifo come come veniva rappresentato però sono carini sono tanta roba ma non meriterebbero più giustizia plus e minim ma chi cazzo le vuole un ve un ve bastato pikachu quanti cazzo ne potete mettere di clone di pikachu tanto per far arrivare ragazzine a comprarvi i vostri giochi del cazzo andiamo avanti con i due frosci volbetto e lumise ma chi ma chi le vuole ma chi le vuole è un gioco mica i puffi io voglio giocare a una osa decente roselia meglio roselia chiede l'evoluzione di quasi gen non ho da dire golpin e swalot non hanno senso di esistere senza cacciarsi troppo poi carvano e sciarpedo sciarpedo è il tocco di classe ma anche quello viene rovinato con il tagliuzzamento fatto cioè ragazzi prendiamo un paio di forbici prendiamo un foglio rappresentato con sciarpedo iniziamo a tagliare a fare delle cazzate del genere e abbiamo fatto la mega evoluzione non ha senso di esistere io invece l'avrei messo un bel razzo sotto cazzuto qui dei razzi qua così magari esplodeva anche dato che faceva schifo esplodeva anche ma per l'amor di dio vuoi mi faccare ma vuoi lord come tu fai ad amarlo che grosso quanto ma che quanto cazzo è grosso è grosso quanto un sottomarino diosato come fai ad amarlo anche se non tu lo ami ti tocca amarlo per forza non me le camero non mi piacciono torco alle poverina che lui non meritava più giustizia però l'idea era buona peccato Spoink guarda c'è da dire Grappig è un affronto a Spoink guardate viene rovinato altissimo guardate quanto era carino non ci incastra nulla Spoink Grappig è la rovina di Spoink ragazzi e poi c'è il drogatissimo Spinda è un tocco di classe Spinda e poi c'è una delle evoluzioni che secondo me non ha mai avuto senso nei giochi Pokemon la linea evolutiva di Trampic Vibrava e Flygon allora Flygon è una figata perché ha anche senso perché c'ha i globi protettivi i globi protettivi intorno agli occhi insomma è studiato bene perché si deve proteggere dalla sabbia degli occhi del deserto ma quell'arte 2 un po' trasformarmi una specie di insetto che cazzo è non lo so io una specie non lo so che cavolo è Vibrava non ha senso che esiste poi anche il nome Vibrava cioè Dio del Metal vibrava di freddo quando era pieno di babbaci no come fai a chiamare un osalo così no è brutto è brutto invece era molto meglio un tipo insetto così lo vevi meglio un po' diventavo un insetto un drago va bene che siamo in Pokemon però ragazzi Cactur Cacnea non mi piace ma Cactur è satanico è bellissimo Cactur è tanta roba per amanti dell'esoterismo ed eccoci arrivati a su vablu l'artaria che cazzo c'è il cervello cioè boh lui è un tipo drago e qui cosa possiamo dire a riguardo niente è un tipo drago del cazzo va bene è puccio su quanto ti pare ma per me non ha senso per me non ha assolutamente senso e poi invece c'è Zanguse e Sevaip ragazzi tra l'altro Zanguse fu il primo Pokemon che usai nella prima run sulle tessere generazioni lo portai al 50 e mi faccia fuori tutti con danza a spada e la racerazione Sevaip mi garba un casino a me e meriterebbe un'evoluzione contro Cazzi ma veramente un'evoluzione veramente forte cattiva perché Arbok non rende l'idea del serpente maligno questo invece potrebbe già ora la rende ma gli serve gli serve più potenza e quei rabbaci del cazzo invece di pensare a questi ose vanno a mettere i capelli a dottrio ma fatevi fuori da soli auto-uccidetevi Lunatone e Solrock sono due generate difatti io che pensavo che in sole e luna erano protagonisti loro e ricevevano dei poteri allucinanti diventavano chissà cosa per me l'osa aveva molto senso ragazzi invece no come al solito perché tanto le ho la game freak sono giapponesi lo sappiamo come sono i giapponesi no c'hanno tutte le idee contorte e allora perché uno ti crea l'ichitung vuol dire che non è sano di mente cazzo andiamo avanti con Barboccio e Whiskash Whiskash è bruttissimo non ci casta nulla è un pesce gatto ma potrebbe potrebbe essere fatto molto meglio mentre invece Corfish è bellissimo Corfish è fatto benissimo mi gabba di più di Krabbe e Kingler Kravdount qui non viene rappresentato a dovere ma Kravdount è cattivissimo praticamente è la rappresentazione di un granchio ladro sono quei granchi grossi blu e arti un metro che praticamente vanno nelle spiagge e rubano i cocchi alla gente raga e rubano il cocco praticamente perché si notano del cocco questa è la rappresentazione di quel tipo di granchio il granchio ladro si chiama cercatelo ed è cattivissimo ma è una figata è veramente bello e poi c'è una e poi si inizia a vedere cose enigmatiche ma che è sta roba e tu ci butti questo essere deforme non si capisce se è un vaso che ha preso vita se è un sogno erotico di qualche fumato giapponese che cazzo non si sa ragazzi comunque mi sa che in questo video arrivo fino alla terza generazione perché non mi c'entra nei prossimi video analizzeremo le generazioni future ragazzi mi dispiace ma vedo che non ce la faccio Bartoy Clydol no no come fa a inserire una cosa del genere allora ammetto la genialata però è è disgusto è disgusto per me però Lilip e Clari Clari è è una boiata allucinante Clari di fa veramente care ma tanto un fossile co coglioni cos'è sta roba una palma ma che cazzo me ne frega a me ma che cazzo me ne frega a me e poi un'altra cosa volevo dire è ora che mi viene in mente no per dire la congruenza dell'attribuzione dei tipi della game freak Svavo e Artar sono di tipo drago volante ma ora mi dici te come fa un uccello essere un drago prima cosa sono da cosa è come se andassi nella tua storia scrivesse un documentario e direi che un dinosauro un t-rex è di tipo erba no che un t-rex appartiene al regno dei funghi ma com'è possibile qui è come di quello praticamente Artaria appartiene al regno dei draghi ma 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 dove tu sei un drago di merda camuffato ma vai a cagare va per favore ah no il termo al mardo non mi piace ragazzi era buona l'idea ma con quell'occhio qui no lo rende deficiente mentre invece fibas ci sta ma viene trasformato in milotic che è uno dei poca più belli mai realizzati possiamo andare avanti casform non ha senso di esistere poi esplodere poi implodere in mille pezzi Kekleon è tanta roba ma meritava più attenzione meritava più attenzione anche dal punto di vista competitivo meritava un'evoluzione Shappet e Banette mi fanno care a differenza della controparte Duskull e Dusklops Duskull è tanta roba è una figata dire che la terza generazione è tutti i Pokémon di merda non è vero perché possiamo vedere le Pokémon come Duskull che è veramente una figata immonda mentre la sua evoluzione non ha senso di esistere perché è trasformato una ossa bella come Duskull in un troiaio ambulante con un occhio con due mani con due braccia dietro come se lui avresse preso boh come se lui fosse entrato nel corpo di qualcun altro e quello è rimasto morto dietro appicciato ma per favore è brutto è osceno e la sua evoluzione in quattro gen è ancora peggio è ancora peggio però vabbè per l'amante dell'occulto ci può sta e ci sta io lo metto nel team va bene però boh mi galberebbe lasciarlo di più da Duskull va bene e troppo non ha senso è brutto con le banane qui va bene rappresentare una ossa del genere io l'avrei messo in sole e luna e va a fanculo che cazzo ci incastra qui a Doen che è pieno di tundra e cose ci mette in ossa del genere ma non ha senso ragazzi siamo arrivati all'apice dell'imbescilità con Chimeco ragazzi avete visto nella satan che fine è fatta che fine orribile ha fatto a fare Chimeco ma perché se lo merita perché Chimeco è lo schifo ambulante per eccellenza incominciamo a vedere che la Game Freak ha esaurito le idee cambio di design cambio di idee cambio di prospettive di disegno e anche ovviamente cambio di menti che c'è dietro ragazzi purtroppo chi progetta le ose non c'è più lo stesso team col tempo cambiano le persone che ci lavorano non ci sono più le menti di un tempo geniali che hanno hanno visto hanno creato il gioco e l'hanno visto crescere di conseguenza ci vengono altri nabaci che neanche se lo guardano neanche se lo giocano in gioco e quindi creano delle cazzate possiamo vedere Dark Souls 2 che cazzo mancava la mente fondamentale ha creato delle boiate per quanto il gioco sia perfetto però ha creato delle cazzate perché mancava la mente principale Chimeco è orribile andiamo avanti con Absol che tanta roba Winout ma chi se ne frega Wobbuffet era perfetto come era che cazzo ci metti quella cosa lì ma inventa altri Pokémon dai un'evoluzione a dei Pokémon che gli serve ma che fai ste ose ma io spicci però sono proprio spiccioli mentre Snorunt Glalie ci può stare però per me sono incompleti Glalie è finito lì è finito lì e quindi siamo arrivati a Sfil Sileo e Wornrein ragazzi tanta roba Sileo non mi piace ma Sfil è bellino è carino mi viene volato di tirargli un calcio però Wornre ne è fatto bene peccato che qui viene reso un barbuto e sembra un marinai fallito non lo so sembra un capitano fallito e la Shur ma non mi piace sì nelle scorse genne viene rappresentato meglio in questo sprite qui viene a mi faccare però un po' come un bellissimo che anche quello meritava più potenza allora Clamper a Tile e Gorevis mi fanno care a livelli estremi mentre Relicant no Relicant è un tocco di genio perché hanno voluto rappresentare per la prima volta un pesce osseo e l'hanno fatto veramente bene perché nelle tre generazioni per la prima volta si è voluto creare un contesto antico dove i Pokémon erano esseri mitologici addormentati e che quindi ti andava a risvegliare ragazzi l'idea è stupenda e Relicant grazie anche alla quest del Rage e tutto conclude bene la osa è fatto bene è carino è fatto bene peccato che anche lui non si evolve e fa care però Love Disc non c'ho anche bisogno di dire quanto mi faccia schifo Bagon Shard non mi piace no ho detto Sheldon Sheldon è quello di quel programma Nabbaccio Sheldon volevo dire Sheldon mi fa care però l'idea l'idea generale è molto bella perché Bagon ha sempre sognato di volare e finalmente arriva Salamence tutto greggio cattivo con queste ali che poi viene rovinato con la mega evoluzione sembra un frisbee ma per l'amor del cielo non ne parliamo e cominciamo a vedere gli esseri enigmatici animati le rocce animate il metallo Bagon Metagloss Metagloss è un tocco di classe Metagloss un po' meno però l'idea generale è stupenda e ragazzi abbiamo una parte discutibile per terminare il video quella dei leggendari sono i miei preferiti anche se due anche se tre non mi piacciono però l'idea che ci sta dietro sono veramente delle figate allora i regi tanta gente ha criticato i regi perché da come vedete sono esseri animati solamente da materia difatti uno è un pezzo di roccia uno è un pezzo di ghiaccio e uno è un pezzo di metallo e manca anche il pezzo di merda il pezzo di merda è il giraci perché fa care però però secondo me è meglio di serie i giraci ma regi rock regi stile per me sono dei tocchi di classe allucinanti perché la host che ha anche un remixato che buona bacio ubicate però la battaglia l'incontro la quest e tutto era stata una figata affrontarla la prima prima volta e me lo ricordo come se fosse ora è veramente è stato veramente bello trovarsi di fronte questi esseri immondi questi questi giganti questi 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 titani qui è stata una figata pazzesca perché appunto vedi basta usare qualche volta non come ora che praticamente lo fanno sempre poco per volta mentre ora ora fanno tutto fanno tutto care hanno usato qui e l'hanno fatto molto bene l'hanno fatto benissimo per quanto siano molto semplici e grezzi però rende l'idea e tra l'altro qui c'è anche un altro pokemon che voglio discutere Deoxys che è stato il primo pokemon leggendario umanoide se non mi sbaglio vabbè c'è anche più tue arti però lui lui rende benissimo l'idea del pokemon extraterrestre cazzutissimo e cazzutissimo e infatti a me mi garba da morire Deoxys mentre invece mi fa care Latias e Latios non mi piacciono no non mi piacciono Latios forse di più di Latias ma non mi piacciono non mi piacciono poi un'altra cosa no e tu metti il genere a loro però poi non le puoi far trombare non le puoi far far nascere l'ova là che cazzo le lo metti a fare non creare la regola che ti vieta di accoppiare i pokemon se non hanno sesso se poi crei quelli col sesso e poi non le fai accoppiare ma allora ragazzi siamo arrivati nell'ultimo del pokemon devo andare veloce se no qui muore tutto Kyogre Grondon Requaza allora io partì con Zaffiro per la prima volta e Zaffiro e trovarmi Kyogre contro è stato bellissimo è fatto benissimo tra l'altro c'è un pokemon non mi ricordo in che generazione futura che io pensavo fosse la forma baby di Kyogre perché l'ha somiglata tantissimo l'idea era quella poi viene trasformato in un pesce di merda però ragazzi quelli sono dettagli ah mi sembra sia in sole e luna comunque poi ve lo vedo chi è Bigalba più Kyogre che Grondon però entrambi sono stupendi veramente poi l'idea che c'è dietro è favolosa una che rappresenta la potenza dell'acqua una che rappresenta l'elemento acqua una che rappresenta l'elemento terra e quindi che sono due guardiani del mondo che si lottano contro di loro e fanno le orge e tutto questo casino poi arriva il grande Rayquaza il porno divo che appena arriva lui e si ritirano tutti nell'acquitrino dello schifo Rayquaza è un tocco di classe però è stato mega c'ha la forma è mega non so come si chiama l'ho vista e mi sono messo le mani ai capelli perché cazzo qui i capelli non ce l'ho però mi sono messo le mani ai capelli ma hanno messo tutto addosso tutto proprio riempiamolo di robe perché lui deve essere il pokemon più bello del mondo allora riempiamoli di osse se no può rendere l'idea hanno messo 100 osse addosso e poi fa caguale cioè quindi per me è meglio si ragazzi questa è stata l'analisi del concept design dei pokemon delle prime tre generazioni quindi farò un altro video dove analizzerò quelli quarta quinta sesta e settima generazione lì si che dovrò bestemmiare lì si che dovrò portarmi una bomba di ossigeno per gli urli perché lì c'è delle robe di merda ma c'è anche delle robe che mi garbano particolarmente per quanto mi sia giocato fuori giochi di queste generazioni però l'ho giocati e anche se mi fa care da morire la generazione nero e bianco però devo ammettere che qualche generata c'è mentre per quanto riguarda quella di sole e luna c'è stato un cambio di rotta ritornando ai design semplici delle prime generazioni quindi c'è tanto da dire ancora e allora ragazzi vi saluto al grande del metal e ci vediamo alla prossima puntata di poca estetica l'unica rubrica che analizza poco dal punto di vista estetico e che non è da una baci quindi vi saluto magari nei commenti ditemi la vostra ma non fate le solite classifiche del cazzo come fanno tutti e a me piace quello a me piace questo ce la fate ad argomentare ogni tanto ce la fate a dire perché ce la fate a analizzare il fenomeno no perché siete una baci quindi è inutile mi venite a dire no di del metal ma per me è questo e quello non mi frega un cazzo se non portate argomenti validi io neanche li leggo va bene quindi ci vediamo al prossimo episodio di poca estetica grazie a tutti